Con Alberto Giovagnoni, il termometro politico, oramai lo possiamo chiamare così, analizziamo quella che è stata la settimana, la settimana delle elezioni di due presidenti di Camera e Senato. Che presidenti hanno eletto Alberto Giovagnoni? Hanno eletto i presidenti di chi ha vinto, è la normalità delle cose, salvo quella piccola parentesi del cosiddetto compromesso storico, sempre così è successo in Italia, ma io non mi soffermerei tanto sulle questioni nazionali che stanno procedendo, come si prevedeva, insomma. Il problema è che le rivoluzioni stanno succedendo nelle zone periferiche, perché il risultato ha colpito più tutti gli apparati locali che si sentivano garantiti, come per diritto divino, di poter gestire quei poteri che sono diventati, soprattutto nelle regioni, il vero e unico potere, perché quelli dei governi sono ormai dei passacarte di alcuni lobby che stanno molto più in alto, le lobby finanziarie, gli istituti finanziari, la Commissione europea e quanto altro. E quindi lì, diciamo, esiste ancora un potere vero rispetto, misero, ma rispetto ai poteri locali. Queste elezioni hanno messo in discussione tutti gli equilibri che esistevano prima. Ricordiamo che prima il PD praticamente aveva fatto capotto e oggi il capotto non è manco un golfino. Questo significa che il problema sarà per le prossime elezioni comunali trovare i candidati, trovare alleanze e trovare soprattutto il modo di essere eletti? Esatto, qui per esempio già si stanno svolgendo alcune questioni. Il Partito Democratico trema, trema in una situazione già debilitata perché il 50,1% della popolazione è già governata da giunte non PD. Anche il centrodestra ha i suoi problemi perché non deve sprecare l'occasione e quindi deve trovare candidati e liste giuste per non perdere il colpo. I 5 Stelle invece, la terza, sono in fibrillazione perché hanno capito che rispetto ai risultati delle politiche probabilmente non ce la fanno ad essere protagonisti, quindi andare al ballottaggio nei principali comuni della regione che voteranno tra quest'anno a giugno e l'anno prossimo, nel 2019. Il problema più grosso però è per i grandi sconfitti, cioè il Partito Democratico che cerca disperatamente di trovare un bando della Masassa. Intanto, prima questione, domanda, si può continuare a far finta di niente e a governare quello che era il primo partito della regione con le stesse persone, con gli stessi gruppi, con le stesse correnti? Questa domanda implica una risposta che sarebbe no, però loro lo fanno lo stesso. Adesso quindi stanno cercando disperatamente i vari raggruppamenti quale può essere la soluzione per fare in modo che questa tornata non sia del tutto disastrosa. Da perdere insomma, perdere già un parte e un perso, ma che non sia del tutto disastrosa. Stanno emergendo due filoni di pensiero per mettere una toppa a questa cosa. La prima, ne abbiamo parlato più volte, è quella che seguendo il modello Assisi dice troviamo un candidato che è fuori dalla mischia, cioè che non è roba nostra, ma è un cosiddetto candidato della società civile. Gli facciamo costruire una lista civica e il candidato si presenta come elemento di punta e quindi nel corso della sua presentazione e del suo entrare in politica chiede l'appoggio di chiunque voglia partecipare a quel programma. A quel momento zitto zitto il PD come ha fatto il Rassisi si accoda e si accontenta di essere diciamo elemento di secondo piano. Questo tipo di strategia mette in evidenza già una cosa clamorosa. Cioè ammette che il PD non è più egemone in questa regione, ma deve trovare dei sottorifugi per rimanere al governo, dentro il governo, non più al governo, il governo degli enti locali. Poi c'è la seconda che dice non me ne frega un tubo, questa è molto radicata tra i renziani giovanotti che vogliono farsi strada e che avevano scommesso tutto, persino la loro esistenza sul partito democratico. E dice no, noi presentiamo magari un candidato giovane, un candidato diverso con la nostra lista, con gli alleati soliti o con qualche lista civica in più dentro e quindi la giochiamo in proprio. Queste due linee si stanno scontrando. La prima però ha un problema ma grossissimo. Chi è dei capi bastone che trova il candidato? Perché da lì dipende poi la formazione della lista, cioè chi trova il candidato ha due possibilità di inserire i propri elementi nelle liste. Li può inserire in quella civica o civiche del candidato indipendente più in quelle del partito democratico. E quindi a quel punto la cosa può, mentre quando tu fai un ragionamento sul tuo candidato, la lista è il PD, ci sono le divisioni per componente e sei a posto. Ora un po' tutti, soprattutto i vecchi si rendono conto che la situazione è drammatica. Ho letto ieri l'intervista di Walter Verini, siamo amici, si può dire l'infanzia. Però sinceramente è sconcertante leggere una parte di intervista che dice che è tutto sbagliato e è tutto da rifare, come diceva il povero Bartali e poi dire che la Marini e la regione hanno fatto bene. C'è una contraddizione in termini. Qualcosa che non va? Ha sbagliato la Marini o ha fatto bene? I governi si sono stati completamente esautorati da un nemico che non ha nemmeno brillato il centro-destra, ha presentato gli stessi personaggi che girano ormai da vent'anni e gli ha dato delle sonore pacche sulla testa. Quindi voglio dire anche questa, la tua critica, la fate o non la fate? È inutile dire abbiamo sbagliato questo e quest'altro e poi dire che le giunte hanno fatto bene. Come fai a sostenere? Però in una situazione di questo genere c'è un comune come Termi, che è il secondo comune dell'Umbria, quello che dovrebbe dare una risposta a quello che potrà essere questo cambiamento che il PD vuole fare, dove sarà ben difficile riuscire a trovare un nome, anche perché va di moda di distruggere tutto ciò che era prima. Lì ormai le due linee sono già state delineate, è una ripetizione, perché il gruppo, chiamiamolo tra virgolette dirigente, fondato sulla nuova segretaria, la giovane segretaria, va dritto verso il suo candidato, probabilmente sarà una donna, i rumor parlano di una donna, a cui si attaccherà tutta la vecchia, come si dice, la vecchia nomenclatura e il, dicevamo anche la vecchia coalizione, cosiddetto centro-sinistra, questa roba ormai è stracotta. Il centro-sinistra avrà qualche lista civica, dall'altra parte il candidato civico di quel tipo è stato già trovato in una forma molto anomala, che è quel chirurgo Pardini, il medico Pardini, il quale già è partito, si sapeva da tempo che lui avrebbe fatto una lista civica, solo che nel percorso i suoi sostenitori, cioè il gruppo dietro a Bocci, compreso che aveva tirato dentro anche l'ex senatore Rossi, non è un caso che l'ex senatore Rossi sia dimesso, che la sua sostenitrice, la Presidente del Comitato Comunale si sia dimessa, non è caso che Brega ha il principale Bocciano dell'area ternana, abbia detto che voleva dimettere, che voleva dimettersi, ancora non si è capito, compagnia Brega, però lì c'è un vizio di fondo. Perché lo hanno fatto candidare alla segreteria comunale del partito? Dove è più il civismo? E qui si sono persi in un bicchier d'acqua. La prossima volta parleremo di un vertile, perché il tempo è tiranno e soprattutto c'è possibilità di farlo. Tanto gli auguri di buona Pasqua ad Alberto Giovagnone e ai nostri spettatori e ci vediamo alla prossima puntata. Grazie Alberto. Arrivederci.